Buongiorno ragazzi, sono sempre io il maestro Marco e sono in compagnia dell'istruttore Dante Guglielmi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Quest'anno abbiamo deciso di fare dei video per voi in modo da non tralasciare totalmente l'attività con gli scacchi. Partiamo da un ripasso di tutte le regole che abbiamo già visto negli anni passati per poi anche andare avanti magari con qualche curiosità. Dante ci potrà dare qualche informazione in più sugli scacchi. Allora, per esempio, possiamo incominciare da dove sono nati gli scacchi. Non so se lo sapete, se Marco ve l'ha detto gli anni passati. Gli scacchi sono nati in quella parte del mondo, diciamo, indo-europea, cioè India e Pakistan, se vedete un pochino sulla carta geografica. E sono nati circa 1500 anni fa, quindi nel V-VI secolo d.C. e da lì gli scacchi si sono poi allargati e espansi grazie agli arabi. Voi sapete, o lo studierete tra poco, che gli arabi nel VII, VIII, IX secolo sono partiti appunto dall'Arabia, Nord Africa, e poi sono sbarcati in Europa attraverso la Spagna e sono arrivati in Italia, in quello che era l'Italia, e in Europa, tra l'altro propagandando questo grande gioco degli scacchi insieme a molte altre scienze, non so, l'astronomia, eccetera, eccetera, matematica, come già sapete. La prova che gli scacchi nel Medioevo erano già conosciuti è data dalla maggiore opera della letteratura italiana, cioè la Divina Commedia di Dante, naturalmente Dante Alieri. Chi meglio di Dante può parlare di Dante. Può parlare di questo, ecco qua questo accavallamento di nomi. Infatti, quando voi scriverete la Divina Commedia, fate attenzione al ventottesimo canto del Paradiso, poi magari la vostra maestra vi dirà meglio, e Dante in quel canto nomina gli scacchi. Evidentemente era un gioco conosciuto ed anche, supponeva l'autore, conosciuto dai propri lettori. Dante dice che, utilizza una parola un po' strana, immilla, simmilla, significa moltiplicato mille. Conoscete la leggenda di Sissa? Probabilmente sì, Marco, non so, gliene hai parlato l'anno scorso, ed ecco qui si faceva riferimento a questo aumentare esponenziale del numero, Dante dice, delle stelle. Nel cielo le stelle si moltiplicano per mille come nel gioco degli scacchi. Ecco qua, adesso possiamo magari, Marco vi farà un riassunto di quello che avete imparato l'anno scorso. Bene, allora ragazzi, partiamo subito con un breve riassunto, facciamo un ripasso di tutte le regole, soprattutto anche le regole speciali, che abbiamo già visto negli anni passati. Allora, il movimento dei pezzi, penso, spero che lo sapete, già lo sapete fare. Allora, con un breve ripasso, la disposizione dei pezzi, troveremo le torri negli angoli, poi i cavalli, G1 e B1, poi ci sono gli alfieri in C1 e in F1, il re in E1 e la donna bianca andrà sulla casa bianca, quindi in D1. Davanti a loro si disporranno gli otto pedoni, 5, 6, 7 e 8. Ok, iniziamo con lo scacco a re. Allora, lo scacco a re è quando il re avversario è sotto attacco. Qua, per esempio, con la torre potremmo fare scacco a re in due modi. O mettiamo la torre in A8, così la nostra torre da 8 sta attaccando il re, oppure facciamo un'altra strada e facciamo scacco dalla casella E1. Da E1 stiamo attaccando il re. Perché secondo voi la strada che va da A1 fino ad A8 è una strada scorretta, una strada sbagliata? Beh, sicuramente perché c'è l'alfiere che ci potrà catturare la torre, faccio un esempio. È vero che questo è scacco, ma l'alfiere ci cattura. Allora la mossa giusta per dare scacco, per attaccare il re avversario sarà mettere la torre in E1. Così stiamo attaccando il re. Per fare scacco in quest'altro diagramma con la donna, in realtà ce ne sono molti. Vi lascio qualche secondo per provare a rifletterci un po'. Magari potete stoppare il video e tentare di dare delle soluzioni insieme alle maestre. Ricordatevi che nelle coordinate degli scacchi si dice sempre prima la lettera e poi il numero. Quindi stoppate il video e ci vediamo tra qualche secondo. Eccoci, tornati. Ci sono molti scacchi in questo diagramma in realtà. Catturare il cavallo fa scacco. Però è una mossa scorretta perché cosa succede se la donna mangia il cavallo? Semplicemente il re ci può catturare. Anche andare la donna, mettere la donna in B6, attacca il re, fa scacco. Però cosa succede se la metto in B6? Purtroppo c'è il cavallo. Il cavallo ci cattura. C'è anche un'altra strada per dare scacco in E3. Ma anche qua ci cattura il cavallo. L'ultimo scacco a disposizione che è quello giusto è andare in H3. Così siamo al sicuro da tutti i pezzi avversari. Nessun pezzo ci può catturare quindi questo sarà lo scacco giusto. Proviamo anche questo. Qua ci sono due modi per dare scacco con l'alfiere. Possiamo fare scacco andando in G6 oppure possiamo fare scacco arri andando in B5. Quale sarà la soluzione giusta? Sicuramente andare in B6 è vero che fa scacco ma purtroppo la torre ci mangia. La soluzione giusta sarà mettere l'alfiere in B5. Ok, vediamo ora come possiamo difenderci da uno scacco. Vi ricordate ragazzi ci possiamo difendere in tre modi. Il primo modo è scappare. La regina nera qui mi sta minacciando, mi sta attaccando il re. Posso scappare dove? Potrei andare in uno, due, tre, quattro posti. L'importante è fuggire, scappo. Se invece mi metto su una posizione magari nel due dove sono ancora sotto attacco non posso mangiare il re ma è una mossa che si chiama irregolare, è una mossa illegale, non si può fare. Infatti mi dice che è sbagliato. Per sfuggire devo cercare una casa dove non sono minacciato da nessuno. Per esempio F2. Ok, allora qual è la torre che mi sta attaccando, che mi sta facendo scacco? Andiamo a vedere. Non è la torre di G6 ma è la torre di H7 perché mi sta minacciando direttamente. Ma posso scappare con il re su questo diagramma? Non posso perché come abbiamo visto c'è anche la torre di G6. Quindi se io mi metto sulla colonna G vengo minacciato dall'altra torre. Non posso scappare in nessun posto perché vediamo che le torri ci stanno bloccando tutte le caselle a disposizione. Come posso fare? Posso fare con il secondo modo per difendermi, ovvero faccio uno uno scudo. Allora questa torre è la torre che mi attacca, posso prendere l'altra torre e metterla davanti a me così a formare uno scudo e mi difendo dallo scacco. Ok, terzo modo. Il re sotto attacco da quale pezzo? Sarà l'alfiere che ci sta attaccando del re. Ma guardate questo cavallo com'è fastidioso perché ci blocca anche le caselle A1 e A3 e allora il cavallo blocca A1 e A3. L'alfiere blocca B3 e ci fa scacco in A2. Posso scappare con il re? Sicuramente no, sono tutte già occupate dai pezzi avversari. Potrei anche fare uno scudo. Vediamo un po' se qualcuno di voi riesce a trovare la mossa, ma non è che sia proprio la migliore. Il cavallo si può mettere in C4 così da fare uno scudo e evitare che l'alfiere attacchi il re. Ma c'è una mossa ancora più forte, il terzo modo che è il principale, quando c'è uno scacco possiamo mangiare. Quindi il nostro cavallo facendo la classica L due passi avanti e uno di lato va a catturare il pezzo che ci attacca e quindi il re ora è libero. Ok, e cosa succede se ad uno scacco non posso né scappare né fare lo scudo né mangiare? Beh, ecco, questo è scacco matto. Allora, vediamo qua come se la donna cattura il pedone, sta facendo scacco, sta attaccando il re? Sicuramente sì. Ecco qua il nostro scacco, quindi il nostro re nero si dovrà difendere. Ma il re può scappare in F8? Non può scappare perché è ancora sotto attacco della donna. Il re ci può catturare la donna? Non lo può fare perché ci sarà l'alfiere che catturerà la donna e quindi questo diventa scacco matto. Guardate come nello scacco matto il re non viene catturato, ma viene, diciamo, intrappolato. Il re è sotto attacco e non ha mossa a disposizione. Questo è scacco matto. Bene, proviamo a cercare questo scacco matto. Quale sarà la mossa giusta per fare scacco matto? Ci sono due scacchi al re. Uno è questo da fare con il pedone, così il pedone attacca il re, e l'altro è questo qua con il cavallo, anche se attacca il re. Però uno è solamente scacco e l'avversario si può difendere, l'altro invece è scacco matto. La mossa sbagliata è quella del pedone, perché è vero che fa scacco ma il re o la torre, come in questo caso, ci possono mangiare. Invece la mossa del cavallo fa proprio scacco matto. Ok, allora, il breve ripasso è terminato. Maestro Dante adesso ci parlerà ancora di qualche curiosità. Dove possiamo trovare gli scacchi? Allora, gli scacchi siamo abituati a vederlo come un gioco lontanissimo da noi, ma in realtà, se ci facciamo attenzione, spesso e volentieri incontriamo gli scacchi. Non so, conoscete sicuramente Don Matteo alla televisione una volta alla settimana c'era questo sceneggiato. Beh, vi ricordate che in questo sceneggiato per tutti noi, per tutte le famiglie, c'era sempre il momento in cui Don Matteo giocava a scacchi con Nino Frassica, mi pare. E non so, anche nel... voi conoscete Camilleri, Andrea Camilleri? Forse no, ma se io vi dico che Andrea Camilleri è l'autore del Commissario Montalbano, ah, ecco chi è Andrea Camilleri. E Andrea Camilleri ha scritto un bellissimo libro giallo che si chiama La mossa del cavallo. Cioè Andrea Camilleri ha preso a prestito, diciamo, un'espressione degli scacchi e ne ha fatto il titolo di un libro, cioè La mossa del cavallo, per dire che c'è, ad un certo punto della sua indagine poliziesca, del Commissario, c'è una piruetta, c'è un'invenzione, diciamo, poco visibile, come è La mossa del cavallo sulla scacchiera, che risolverà il quesito di questo libro. Non so, forse avete sentito nominare dai vostri genitori, non so, 2001 di Sea nello spazio, forse il più celebre film di circa 40 anni fa. E in questo film c'è il computer che gioca a scacchi e l'astronauta che gioca a scacchi più del computer. Non so, Harry Potter, se avete sentito parlare di Harry Potter qualche anno fa, c'era tutto un racconto, tutto un capitolo di questo ciclo in cui si parlava del gioco degli scacchi. E via dicendo, ecco, questo per dirvi che gli scacchi, pian piano, vi accorgerete, e ci accorgeremo, che sono, che sono nominati, che sono presenti nella nostra vita. Ieri ho visto su un'edicola un giornale, il titolo di un giornale che diceva scacco ad una banda di ladruncoli. Ed ecco qua, significa che il giornalista ha utilizzato un linguaggio scacchistico, cioè scacco ad una banda di ladruncoli, evidentemente vuol dire che sono stati presi, inchiappati, minacciati, quindi significa che dare scacco a, mettere sotto scacco qualcuno o qualcosa, significa minacciarlo come appunto negli scacchi, quando si dice, quando Marco vi diceva poco anzi, il re è messo sotto scacco, cioè è minacciato, come in quel caso. E ci sono altre, altre, altre espressioni di cui parleremo, diciamo, forse la prossima volta, e vedrete che anche il lessico, le accezioni di alcune parole, ci rimandano e alla nostra vita normale e al linguaggio scacchistico. Perfetto, prima lezione terminata, ragazzi, ci vediamo presto alla seconda lezione.